E qui con me, cari amici, c'è Clizia. Ecco, e Clizia vuole dire un po' di... vuole dire la sua, soprattutto partendo da Paolo, che certamente, lo sappiamo, non sta in una bella situazione. Ehi! Inizio con lei. Ho accettato le due birrette a fregene. Andiamo in prima possibile. No, perché avevo sempre detto, perché lui aveva detto, o sì o no, eravamo rimasti così. Ho detto, dopo la porta rossa, poi te lo dirò. E quindi, insomma, c'è un futuro. C'è un futuro che sì, assolutamente sì. E poi volevo dirti una cosa, che l'epilogo è strano, ma in realtà io ho vinto, grazie a te, perché il mio cuore ha ripreso a battere e non credevo che fosse più possibile ciò. E siamo in due. Siamo in due. Ho provato a dirlo prima, ma non ci sono riuscito. Tu sei più brava di me con le parole. La nostra vittoria è più grande. Grazie. 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 Grazie.